Per tre giorni Napoli capitale dell'architettura grazie alla sesta edizione del festival Open House. 400 volontari, 150 appuntamenti in un fitto programma presentato nella sede dell'Associazione Costruttori Edili di Napoli, l'ACEN, Palazzo Ruffo della Scaletta, alla riviera di Chiaia, che rientra dagli itinerari previsti della manifestazione, che si svolgerà dal 18 al 20 ottobre. Padroni di casa, il presidente di ACEN, Angelo Lancellotti. Ed è proprio quello che noi ci prefiggiamo, cioè mettere a disposizione della città il nostro immobile, rendendolo un luogo d'incontro anche di dibattito culturale. Direttore di Open House Napoli è Stefano Fedele. Di oltre 150 esperienze, tutte assolutamente gratuite, che comprenderanno visite guidate, che sono un po' il cuore della manifestazione, ma anche laboratori per i bambini per portare i concetti dell'architettura ai più piccoli. Tra i tour previsti, le due sedi della Facoltà Pontificia Teologica dell'Italia Meridionale di Napoli e Palazzo Matteotti, sede della città metropolitana. Collaborano con l'evento il Comune di Napoli e l'Azienda dei Trasporti, IEAV, rappresentate al tavolo dei relatori dall'assessore Luca Trapanese e dal presidente Umberto da Gregorio. Capability nasce per portare la disabilità in visione diversa nella nostra città. Noi grazie ad Open House riusciamo a portare la cultura e quindi tanti luoghi turistici aperti alle persone disabili. È un'occasione per far visitare delle cose poco conosciute o addirittura mai viste. In particolare quest'anno la stazione di Capur a Monte Sant'Angelo, completamente finita, che aprirà nel giro di speriamo pochi mesi. Grazie a tutti.